ecco lo stesso domani ragazzi ragazzi sono qua ti carichi in patria zile del canale un altro video insieme mi sembra che non posso cambiare location l'ho fatta sempre molto che plane se vogliamo non ve l'ho fatta col cocktail e la spiaggia ma a volte sono un po assornato così magari in mezzo a tutti è un po un problema però oggi devo assolutamente tenervi informati su quello che è successo ieri col comunicato degli ultrassi ai vikings perché non mi va bene non mi va bene quello che hanno detto quindi andiamo proprio a dire qualcosa su queste queste parole questo comunicato ma c'è un attimo di stucco e secondo me molti ne parleranno parto prima con i saluti ringraziamenti però tutti iscritti ragazzi benvenuti in community ci va la maglia vi accoglie con un grande abbraccio forte forte un altro ringraziamento specialissimo che va invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione grande entusiasmo allora come vi stavo dicendo mi è arrivata proprio una mail un comunicato dove ho letto qualcosa di raccapricciante cioè persino i drughi e i vikings che sono comunque degli riducibili bianconeri del tifo dei nostri colori tra l'altro erano stati messi fuori due anni da agnelli erano stati impediti di andare allo stadio cosa fanno fanno comunicato contro bonucci capitano quindi chiedendo di impegnarsi di più e di fare di più e giocatori insultandoli incolpandoli di non fare il loro dovere ok tant'è che infatti io qualche giorno fa avevo visto una specie di spam un messaggio di minacce di uno degli ultras ma ho detto vabbè sarà scherzando no e invece evidentemente sono dalla parte di allegri e questa è una cosa scandalosa quindi devo assolutamente fare un video ovviamente qualche qualche ripicca arriverà sicuramente però sinceramente non posso essere d'accordo con certe cose cioè è normale ed è palese ormai chiaro a tutti che i giocatori non stanno giocando per colpa di allegri non è perché loro non si impegnano in generale per la squadra per dare il meglio per i pericolori bianconeri la squadra c'è la rosa è di alto livello però ripeto l'unico modo che ha la rosa per rivoltarsi verso l'allenatore qual è quello di smettere di giocare ed è per quello che io continuo a battere il chiodo e lo so che magari alcuni non sono d'accordo che i giocatori giocano i primi 10 minuti o i primi 30 minuti al massimo come se fosse anche contro la roma come è successo con altre squadre come il benfica lo spezia e poi smettono di giocare e questa cosa qua non era mai successa neanche col primo allegri col primo allegri e poi neanche col secondo allegri cioè quello dell'anno scorso raramente mollavamo la spina completamente ci facciamo rimontare quest'anno è palese è palese perché la rosa è migliorata abbiamo giocatori in più forti che hanno vinto tanto e non riusciamo ad orare più di 5-10 minuti dai per favore è lo stesso metodo che usavano i miei giocatori i miei compagni di squadra quando volevano mandare via un allenatore che era titolato si aveva vinto ma era ormai alla frutta era ormai alla frutta e purtroppo è successo anche in quel caso lì la squadra ha perso volutamente 5 partite su 8 e non era da loro perché era una squadra costruita per andare su andare ai playoff e qualificarsi per la categoria successiva e non ce l'aveva fatta quindi ripeto ragazzi io lancio l'appello appunto di non farci prendere da questi insulti da questi improperi e continuare a fare il nostro come tifosi non andando allo stadio manifestando la nostra indignazione perché se noi siamo complici di questo alla fine Agnelli farà di tutto per far passare le cose come se non fossero successe e quindi Allegri ha ancora più potere in questo momento qui dovevi depotenziare Allegri fare in modo che lui diventi obsoleto lo è già formalmente ma in maniera ufficiale non lo è ancora perché la stampa lo protegge addirittura gli utrass lo proteggono è una cosa indicibile cioè non ha avuto neanche un insulto, un fischio mentre andava nel tunnel i giocatori sono andati a prendersi i fischi per Allegri ok? Di Maria non ha potuto perché si è fatto spellere prima scommè volutamente però Allegri scappa sempre come una faina nel bosco prima ancora che i tifosi possano andare a dirgli qualcosa non si fa così sia nella vittoria che nella sconfitta tu devi andare lì aspettare, stringere la mano a chi di dovere salutare l'annatore della squadra avversaria e poi andare via eventualmente dopo aver chiesto scusa ai tifosi perché tu sei la responsabilità di queste sconfitte tu ok? non scappare come un poveraccio un disperato negli spogliatoi perché non ti crede nessuno sono delle scenate che non sono affidabili ecco, a me non danno fiducia quelle cose perché dovresti essere tu il primo a capire che hai sbagliato e non lo fai mai non lo fai mai neanche in conferenza stampa e giri sempre le cose dai la colpa ai giovani vai a sottolineare dei dettagli che non c'entrano niente con la prestazione finale e soprattutto non ti prendi mai le colpe tu cioè additi sempre gli altri chiunque essi siano possono essere i preparatori atletici possono essere i vice possono essere i giocatori può essere il capitano può essere il gesto fatto da un giocatore che poi ha compromesso la partita come nel caso di Maria può essere un fallo da rigore che dovevamo fare può essere qualsiasi cosa anche un, non so, un asteroide che casca sullo stadium per te è comunque una giustificazione deve smettere questa storia degli alibi perché con questa storia degli alibi tua tua, ripeto, mi rivolgo a te siamo sprofondati nella provincialismo totale prima erano l'Inter il Milan il Napoli e altre rose altre compagini a fare queste queste proteste contro l'arbitro contro il VAR contro il tutto e anche il vento e la pioggia adesso sei tu però il tu diventa anche la Juve perché sei tu il condottiero di questa nave e non sai stare al timone quindi in ogni momento basta un qualcosina che noi potremmo andare contro uno scoglio e questo non te lo consentiremo faremo di tutto per impedirtelo perché non è accettabile non è accettabile che noi eravamo la grande Juve di cui tutti avevano paura sia in Italia che in Europa e ci siamo ridotti a finire una zero contro il Monza senza neanche tirare in porta con un tiretto di Ken così centrale per Di Gregorio questo è veramente scandaloso io non me l'aspettavo sinceramente e però questa è la verità chiudo il video appunto battendo chiodo su questo cioè noi cominciando a lamentarsi contro arbitri VAR episodi a sfavore la sfortuna che ci gira contro eccetera stiamo diventando addirittura peggio peggio di quell'Inter lì che non vinceva mai perché a me non tanto l'Inter veniva fuori con una Coppa UEFA nel 98 come coronando il fenomeno con qualche Coppa Italia cioè noi addirittura rischiamo non sto scherzando di finire fuori dalle prime 4 ed è una cosa assurda cioè non ci posso credere che persino gli Ultras non provano vergogna non si rivoltino contro questo questo scempio dobbiamo assolutamente dire la nostra alzare la voce ragazzi io ripeto sarò tedioso però quando succedono queste cose devo assolutamente riportarle e far notizia perché è inutile parlare d'altro ieri ho parlato un po' di mercato perché obiettivamente qualcosa si sta muovendo anche per gennaio perché così come siamo messi non andiamo da nessuna parte abbiamo visto in difesa che siamo dei colabrodo appena ci schiacciamo dietro sperando di tenere un punteggio una zero eccetera non ce la facciamo più perché centralmente ma siamo anche bravi ma ai lati sbandiamo continuamente infatti tutte le pericolosità che sono venute dal Benfica per esempio ma anche dal Monza arrivavano per vie laterali perché chiunque anche ciurria quello che ha fatto il cross per quell'altro ha fatto così sapeva che siamo perforabilissimi quindi quel metodo lì di Alleghi non funziona e lui continuerà a dire ah ma a giugno vedrete che arriviamo chissà dove vinciamo dai lascia perdere e a gennaio mi faranno la campagna arriverà qualcuno a posto di Alexandro basta con queste storie finiamola ditemi cosa ne pensate del video un bel pollicione iscrivetevi al canale e ti date la campanella a presto come sempre grazie di esserci un abbraccio fortissimo da Mena Lila ciao ciao